Musica Cari amici, prendiamo in mano allora il nostro bellissimo libro di Catechesi La gloria di Maria nell'annuncio dei segreti e come sapete il libro è diviso in tante tematiche, in tanti temi ognuno di quali indipendente dall'altro che comunque invitano alla riflessione e comunque hanno uno scopo anche di formazione e anche uno scopo di informazione Dunque noi abbiamo letto ieri il numero 4 Dio, amore e libertà Oggi, cari amici, questo pensiero che abbiamo letto ieri lo approfondiamo andando avanti con il numero 7 cioè Gesù Cristo è la verità che rende liberi cioè Dio, amore e libertà ma è appunto la libertà cristiana quella che è veramente quella che conta ed è una libertà che ci rende liberi se accogliamo la verità che è Cristo Allora, leggiamo brevemente se c'è qualche commento da fare lo facciamo Cari amici, queste sono tematiche che sono come lettere scritte ai lettori Cari amici, nello spazio di pochi mesi l'Argine della Pace si è messo in guardia dei pericoli che incombono sulla libertà Non l'avrebbe mai fatto se nel mondo nuovo senza Dio non stesse prendendo campo un nuovo totalitarismo come lo ha stigmatizzato San Giovanni Paolo II al termine del suo pontificato cioè San Giovanni Paolo II ha parlato delle due ideologie del male il nazismo e il comunismo poi ha parlato di questa terza che è esorta quando nessuno se l'aspettava è esorta proprio nei paesi di antica cristianità che è il nuovo totalitarismo cioè l'imposizione di una visione della vita che è tutto sommato anticristiana che la Madonna è astigmatizzata come pagana e viene imposta diciamo così con la potenza dei mass media che non lascia alternative si tratta di una nuova ideologia e il nuovo totalitarismo che secondo i grandi pontifici San Giovanni Paolo II campione delle libertà religiose e civili è peggiore di quella precedente che hanno ridotto l'Europa a un cumulo di rovine cioè San Giovanni Paolo II ha visto il nuovo totalitarismo qualcosa di peggio del nazismo e del atismo comunista in quanto punta direttamente al cuore e alla mente delle persone e punta direttamente all'eliminazione del cristianesimo il nuovo totalitarismo si presenta come una nuova religione quella dei risvegliati, fra virgolette, gli illuminati sono quelli con la luce e la loro intelligenza hanno capito che sono loro Dio quindi si presenta come una nuova religione quella dei risvegliati che hanno scoperto di essere Dio al posto di Dio e che si propongono di distruggere tutto ciò che il cristianesimo ha creato nel corso della storia come ha detto bene il brevetto sedicesimo nel suo ultimo scritto che comunque in occidente gli stati perseguono la eliminazione di ogni traccia cristiana cercano sicuramente però che ci riescono lo vedremo si tratta di una ideologia immanentistica immanentistica, cioè che esclude il sopranaturale e la trascendenza quindi si tratta di una ideologia immanentistica cioè atea che esclude ogni sopranaturale e che fa dell'uomo un elemento effimero della natura cioè il frutto dell'evoluzione animale è la natura infatti la nuova divinità da allorare l'ecologia il nuovo culto da instaurare il gender la nuova creazione da adottare cioè creazione improvetta si costruiscono le macchine come i tacchi delle scarpe si costruiscono i bambini come le macchine i tacchi delle scarpe l'odio del passato è la passione che alimenta che alimenta la nuova ideologia del nuovo totalitarismo l'odio del passato e quindi del cristianesimo l'intolleranza e la violenza sono gli strumenti per imporla la menzogna è la foglia di fico per coprire l'arroganza non c'è libertà senza amore e verità lo ha detto Gesù e ce lo ripete la regina della pace il cristianesimo è garanzia di libertà per chi crede ma anche per quelli che non sono cristiani andiamo all'ottavo tema il male avanza se non trova resistenza attenzione cari amici il male avanza se non trova resistenza se trova resistenza incomincia a vaccinare e indietreggiare questo ci deve essere ben chiaro ben chiari e mai arrendersi caro amico non ti sei mai chiesto perché in pochi anni la fede dei nostri paesi di antica cristianità si è dissolta e si è imposta una visione pagana della vita quando il diavolo ha libertà di agire ne approfitta semina a zizzani a piene mani e mette le anime senza che nessuno se ne curi come un'epidemia si diffonde se non trova chi la contrasta così l'impero delle telebre dilaga fino a imporre la sua egemonia cioè se trova la biglaccheria e la resa invece della resistenza alla fine il male impone la sua dittatura se non argine il peccato nella tua vita personale il demonio ti conquisterà fino a farti uno schiavo e a disporre di te a suo piacimento chi potrà liberarti? se invece opponi resistenza e te rialzi dopo ogni sconfitta il male perde forza mentre tu riprendi coraggio dopo ogni battaglia vinto o persa che sia il male va combattuto oppure sei finito questo è vero anche nella società e nel mondo intero ci sono minoranze che lavorano per il demonio e che cercano con ogni mezzo di trascinare le moltitudini sulla loro via sulla via del demonio se si limita a guardare invece di opporsi i vaccino rosi diventeranno i padroni del mondo trascinando tutti nel baratro quindi cari amici se ci limitiamo a guardare invece di opporci i vaccino rosi i malvagi diventeranno i padroni del mondo trascinando tutti nel baratro se invece ognuno per la sua parte e nel suo ambito combatte con decisione senza lasciarsi intimidire l'arroganza del male si affroscia perché quella di Satana è una falsa forza quando si combatte con Rosario nel nome di Maria Satana si sgonfia sperimenterai nella tua vita la fortezza di Dio che mostrerà come l'impero delle tenebre nonostante la sua prepotenza e la sua cattiveria sia in realtà sia una realtà di un branco di codardi alla fine crollano come gli zombie facciamo un altro pensiero cari amici che riguarda come come respingere e scacciare la testa al serpentello della tentazione fin dal principio siamo al pensiero numero 9 non permettere che la tentazione catturi la mente caro amico la tentazione è un pensiero o un'immagine che colpisce la mente spesso all'improvviso senza che tu ti sia esposto ti arriva come un dardo infuocato non ti devi meravigliare per questo tutti subiscono tentazioni anche le più sconce anche i santi che sono tali perché hanno lottato e hanno vinto non perché non hanno avuto le tentazioni però attenzione caro amico le tentazioni vanno superate fin dall'inizio perché col passato del tempo ingrossano e prendono il sopravvento su altri pensieri fino a diventare un'ossessione cioè il demonio è bravissimo nel creare delle fissazioni dalle quali non riesci più a liberarti anche quando magari ricevi una ferita o un torto ti tortura ti allarga la ferita in modo tale che in te nasca il risentimento e il desiderio della vendetta più prende in considerazione una tentazione cioè più ci pensi e più risulta attraente tanto diventare un desiderio irresistibile col quale il tentatore ti tiene a guinzagli molte volte sono dalle immagini con l'acqua con le quali Satana ti distrugge con quello che ti offre dice la Madonna e se tu le tieni vive sei morto in primo luogo è fondamentale comprendere che quel determinato pensiero o immagine non sono qualcosa di innocuo ma sono un'esca del tentatore cioè vedere subito che è una tentazione se tu ti accorgi che è una tentazione riesci a staccarti se tu vedi che al di là c'è il diavolo gli porti la schiena come quando vai a fare i funghi ti accorgi che c'è un serpentello e ti accorgi che vuoi serpentare una vipera allora ti metti sul chivalam quindi cari amici in primo luogo è fondamentale comprendere che qualche determinato pensiero o immagine non sono qualcosa di innocuo ma sono un'esca del tentatore come quando il pescatore va a pescare lancia l'esca cari amici e il pesce gira intorno guarda guarda finché ha bocca e poi va a finire in padella quindi quando ti accorgi che determinate immagini o parole o insinuazioni o pensieri sono un'esca del tentatore allora tu cari amici le rimuovi certo devi fare lo sforzo di rimuoverle le rimuovi con altri pensieri con pensieri di luce la tentazione non appena scoperta appena ti accorgi che è una vipera è meno pericolosa perché sai che è un pericolo da evitare tuttavia per vincerla è importante che tu distolli l'occhio dalla mente da essa cioè devi canciarla con altri pensieri in modo tale che la tentazione pian piano cada nell'ubrio cioè il diavolo cerca di incollartela sulla mente te la incolla con l'attacca perché tu rimani fisso lì e tu cacciala con un altro pensiero in questo ti sarà di aiuto mi ricordo che c'era un nostro padre spirituale che ci diceva ma sì ma voi ragazzi pensate alla vostra squadra del cuore è l'ultima partita che ha fatto la sua ultima vittoria in questo modo cacciate le tentazioni e funzionava la cosa in questo ti sarà di grande aiuto rivolgere la mente a pensieri che elevano l'anima e la scuotano dal suo turpore cioè tu elevi tu stacchi la mente dalla tentazione coltivi pensieri di luce pensieri parole belle del Vangelo consigli del padre spirituale elevi l'anima diciamo così a pensieri elevati e così ti scuoti dal tuo torpore e diventi attivo combattivo e diventi vincitore pian piano allora la tentazione si sgonfia e tu ritroverai la tua serenità ti rendi conto in quale trappola stavi per cadere cioè quando il salto di qualità cari amici avviene quando ti accorgi che è un pensiero un'immagine un progetto insomma qualsiasi cosa che tu pensi ti rendi conto che è una trappola del demonio allora tu hai già quasi vinto devi solo voltare la schiena e basta girare i tacchi e infilarvi via ma finché non lo scopri alla fine riuscirà ad abbagliarti e riuscirà cari amico a farti cadere dunque abbiamo tempo ancora per un pensiero vediamo sì pensiero numero 10 l'ultima chiamata dell'umanità alla conversione come te sono pensieri sparsi che io ho compilato ogni giorno e ho messo sul blog ma adesso sono a disposizione di tutti un libro è veramente uno strumento straordinario poi potete sfogliarlo aprire per caso oppure andare all'indice diventa come dire è come prendere una vitamina al giorno è proprio così mi sono reso conto che è una cosa come dire piacevole ecco l'ultima chiamata dell'umanità alla conversione cari amici la Madonna ha rivelato che le sue apparizioni a Meggiugorie sono le ultime e che questa è l'ultima sua chiamata dell'umanità alla conversione dopo oltre 40 anni di presenta quotidiana e di esaltazioni accorate quanti cuori si sono aperti al suo appello di madre lo sa soltanto Dio la metto lei lo sa Dio la conversione è il più straordinario dei miracoli e non c'è dubbio che a Meggiugorie sono numerose le persone che hanno iniziato una vita nuova tuttavia colpisce era trista l'indifferenza e persino il fastidio che il dono di questa presenza celeste cioè come l'è detto la Madonna un numero enorme neanche mi prende in considerazione quindi disprezzano questa presenza celeste che illumina che conforta siamo in un passaggio drammatico della storia della salvezza nel quale Satana miete le anime come dice la Madonna e le porta con sé mentre il mondo corre verso la catastrofe siamo in questa situazione ma il maggior numero delle persone non se ne accorge non vuole accorgersene non vuole prendere in considerazione la situazione che cosa impedisce alla gente di uscire fuori dalla palude melodorante dalla cattiveria della superbia dell'ingordigia e della maledicenza la piovra del vizio avvingia nei suoi tentacoli e solo un miracolo della grazia li può spezzare se uno è nel peccato è sordo è cieco e non può neanche fare una mossa per questo cari amici dobbiamo farci carico delle anime malate che vanno verso la morte spirituale e aiutarle con la preghiera è buon esempio specialmente i nostri familiari le persone amiche che conosciamo e che possono avere in noi diciamo così quell'aiuto di cui hanno bisogno per uscire dalla trappola infernale sappi caro amico che una conversione non passa mai inosservata si perseveranti sulla via dalla salvezza non mancheranno mai quelli che ti seguiranno bene carissimi abbiamo letto alcuni pensieri alcuni come si dice la parola pensieri forse è quella esatta del blog è un nuovo modo di fare di scrivere libri questo che però c'è un filo che li congiunge tutti e diventano pensieri di informazione di formazione che vengono come si dirce elaborati strada facendo giorno per giorno e vengono condivisi bene carissimi dunque andremo avanti ancora cominceremo di nuovo settimana prossima fra l'altro martedì come sapete il 25 del mese quindi sempre un appuntamento straordinario il libro che stiamo leggendo e commentando è la gloria di Maria nell'annuncio dei segreti il titolo sottotitolo il seo di Međugorje illumina il mondo per avere questo libro dovete scrivere Radio Maria via email info.ita chiocciola radiomaria.org telefonare all'ufficio informazioni 031 610 600 entrando nel sito radiomaria.it cliccando catalogo oppure meglio ancora è più facile è più agevole con l'orsapa di Radio Maria che è 031 610 610 scrivete il titolo del libro che volete o altre cose che volete nome e cognome indirizzo numero di telefono per il corriere che ve lo porta noi il libro lo offriamo cari amici lo spediamo insieme alla coroncina dei sette dolori della Beata Vergine Maria potete fare dei vari libri a casa vostra anche con i store online lo mandano in breve tempo come anche noi siamo molto solleciti ormai ci siamo ben organizzati e anche fate una bella visita a librerie specialmente quelle cattoliche in modo anche per in qualche modo sostenerle e così con oggi cari amici abbiamo terminato ringraziamo Dio per questa pioggia che pare voglia continuare anche oggi ringraziamo la Madonna per questa grazia il mese che ci ha dato restate cari amici sempre in sintonia sulla nostra dolcissima Radio Maria Grazie a tutti